let's go bitches benvenuti in questo video dove comparirò due armi di advanced warfare usate nel competitive le uniche due che vedete usate a parte per gli MR comunque sono il BAL 27 e la SM1 rispettivamente un fucile d'assalto e un SMG per prima cosa ci tengo a dire grazie a tutti per i like che state mettendo al video e i commenti perché grazie a questa vostra partecipazione stiamo finalmente riavviando il canale non vedo l'ora di poter tornare come un tempo ci vuole ok ancora del tempo non si può fare tutto con due video però le cose stanno andando abbastanza bene comunque partiamo subito con la prima arma che voglio affrontare che è il BAL 27 come sapete questa serie l'avevo già affrontata su Ghost comparando armi come per esempio era meglio la K47 o il Remington era meglio il LMTAR o il Vector quindi voi sapete questa serie è stata già affrontata però era stata fatta in pubblico in questo caso l'affronterò qui in base al competitive allora il BAL 27 è un fucile d'assalto ha un caricatore da 32 colpi 48 con gli extended mag e ha un danno massimo di 34 quindi per uccidere una persona dalla distanza minima ci vogliono ben 3 colpi mentre un danno minimo di 24 questo vuol dire che ci vogliono ben 5 colpi dalla distanza massima ma la cosa forte di quest'arma è il fatto che aumenta il suo ratio di fuoco più si preme il grilletto come funziona bene il diciamo il ratio di fuoco iniziale di 666 colpi al minuto 666 infatti questa è un'arma infernale come sapete esiste il ballo inferno no a parte gli scherzi i primi 4 colpi vengono sparati a questa velocità molto lenta mentre gli altri colpi arrivano fino a una velocità di 857 colpi al minuto quindi praticamente un terzo in più quasi il BAL 27 è sicuramente superiore a un'arma come un IMR perché anche se l'IMR fa 35 quindi un punto in più un punto in più di danno al corpo 35 allo stesso modo hanno lo stesso danno dalla minima distanza 24 quindi è molto meglio utilizzare un'arma in questo caso automatica che una a raffica pure perché il ratio di fuoco degli MR è un po' più lento rispetto a quello del BAL da vicino invece potrebbe essere molto più di avere un'arma come gli MR per quanto riguarda invece la SM che è diciamo un SMG ed è una delle più forti in circolazione ben 35 colpi come già sapete perché è stata depotenziata dato che aveva un caricatore da 45 la SM1 è un'arma fortissima perché fa ben 35 di danno da vicino fino a 18 da lontano 18 da lontano vuol dire 6 colpi quindi ovviamente cade un pochino in questo aspetto però ovviamente quest'arma ha una grandissima portata quindi ha un... cioè molte volte ucciderete le persone con solamente 3-4 colpi massimo arrivare fino a ucciderli a 6 colpi sarà veramente difficile pure perché non avrete automere e la persona dovrà stare ferma dato che fa un danno medio di 24 come anche il BAL quindi è lo stesso danno medio cambia solamente il radio di fuoco in questo caso l'SM come funziona? parte con un radio molto più accelerato se si può dire o veloce in questo caso un tempo era di... i primi 8 colpi venivano sparati ragazzi sentite qui a ben 1000 colpi al minuto una velocità impressionante molto più velocemente anche del BAL quando sparava alla sua massima velocità di radio di fuoco ora è stata depotenziata e solamente i primi 3 colpi vengono sparati così velocemente per poi decelerare fino a 759 colpi al minuto cosa ha però la SM1 rispetto a un KF5 e un MP11? ha una grandissima portata che lo rende ottimo come SMG AC perché ha un grandissimo magnetismo quindi una grandissima automira grazie alla sua portata sia perché può fare kill a media e anche lunga distanza con 3-4 colpi massimo online la SM1 ha un po' buggato a volte uccide con 2 colpi quando non dovrebbe questo è un problema che si riscontra online infatti online la SM1 è godlike in LAN invece molto più bilanciato il gioco come al solito gli AR hanno lo strapotere da media e lunga distanza queste qui sono le armi ragazzi spero vi piaccia questa piccola serie dove affronto diciamo dove comparo queste armi che sono nel competitive vorrei cercare di portarla anche più avanti per esempio parlare dei cecchini se è meglio l'Atlas o è meglio il Morts perché molte persone ho visto usare Atlas molte il Morts anche sui fucili a pompa comunque e comunque fare questa serie anche magari spostarla in pubblica come era successo su Ghost fatemi sapere let's go bitches tschüss